Oggi prepariamo insieme le barchette di melanzane ripiene di pasta. Uno dei miei primi piatti preferiti. Prepariamo il sugo, quindi in pentola, aglio, olio e passata di pomodoro. Condite con basilico e sale e lasciate cuocere. Quindi tagliate a metà la melanzana nel senso della lunghezza. Con l'aiuto di un coltello incidete il perimetro della melanzana. Prelevate la polpa, aiutandovi anche con un cucchiaio. Rivediamolo insieme. Incidete il perimetro della melanzana con il coltello e con il cucchiaio prelevate la polpa. Adagiate le barchette di melanzane su una teglia ricoperta di carta forno e condite con sale e pepe. Spennellate con l'olio extravergine di oliva e cuocete in forno già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. A questo punto tritate grossolanamente la polpa delle melanzane. Cuocete in padella con un filo d'olio e condite con il sale e il pepe. Dovranno risultate morbide. Eccole. Quando il sugo sarà cotto procedete alla cottura della pasta. Quindi scolate la pasta molto al dente e condite con le melanzane, il formaggio grattugiato e la passata di pomodoro. Mescolate bene il tutto. Aggiungete la mortadella o il prosciutto tritati, la mozzarella a fior di latte e mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti. Quindi adesso versate due o tre mestri di passata di pomodoro in teglia. Sistemate le barchette di melanzane cotte e condite con passata di pomodoro, un po' di formaggio grattugiato e qualche pezzettino di mozzarella. Adesso farcite le barchette di melanzane con la pasta. Belle, piene, piene. Aggiungete la mozzarella abbondante, il formaggio grattugiato a sentimento e ricoprite con la passata di pomodoro. Quindi coprite e cuocete in forno a 180-200 gradi per circa mezz'ora. Quindi eliminate il coperchio e lasciate gratinare. Ed eccole qui, in tutto il loro splendore. Le nostre barchette di melanzane ripiene di pasta sono pronte. Le lasciamo riposare per qualche minuto prima di servirle. E quindi buon appetito a tutti! Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima, ciao!